Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della Smiling House! Ragazzi, guardate dove siamo! Ci siamo, ci siamo, ci siamo! Fa un po' per sfido, però ci siamo! Allora, siamo venuti in montagna oggi, un po' perché avevamo qualche appuntamento, stiamo procedendo con l'inizio dei lavori alla nostra casetta e poi volevamo finalmente farvela vedere. Allora, così la vedete da fuori. C'è una bella lucina lì, accesa, che giorno! Sì, infatti! Eh, forse non l'ho accesa da di barri. Beh, adesso la andiamo a spegnere. Comunque, allora, no, facciamola vedere adesso. Stacchiamo il telefono da qua e ve la facciamo vedere meglio. Proprio così, alla grezza, proprio. Sì, raga, la buona, poi comunque ricordatevi che qui... Ciao! No, aspetta. Ricordatevi che è tutta, tutta da ristrutturare, quindi verrà. totalmente nuova, la vedete così, ma dovete guardare la struttura, la base. Sarà completamente diverso e sarà bello proprio condividere questo percorso con voi. Quindi vai, andiamo, facciamola vedere! Andiamo, vai! Allora, quella è la stradina che porta alla casa mia. Olè! Molto carino. Questo è tutto. Questo è il panorama di struttura, con altre case, altre case sopra. Guardate qui! Cosa mi ricordo questo? 21, eh, amore! Il numero della nascita della Sochi. Eh, sì, sì. Poi, la mia macchina. Allora, questo è un panchettino di struttura. Sì, questo praticamente via, tutto via. Sì, qua faremo il parcheggio davanti, perché noi abbiamo tutto il giardino anche dietro. Comunque, qua c'è l'altra, quella macchina che stava, e l'altro parcheggio, questa parte. Vedete? Si va nel paese. Vai, andiamo. Poi? Andiamo, ciao, sì! Allora. Permesso. Praticamente noi faremo due appartamenti. Uno giù. Andiamo giù? E uno su. Andiamo prima su, che è un po' più freschino. Andiamo su. Scale tutte da rifare. Allora, questa è un'entrata. Pavimento tutto da rifare. Questa è un'entrata, però facciamo vedere il terratto. Questo anche qui, gli vestimenti tu devi fare. Guarda, guarda, guarda che bello il terratto. Guarda che bello è. Questa sarà visuale, immaginatevi la visuale qua. Con la neve. Con la neve. Oppure d'estate. D'estate anche, guardate. Adesso forse qualche alberello, qui non lo teniamo. Allora, qua entriamo dalla porta finestra della sala. Sì, che poi qui apriremo tutto, faremo una vetrata enorme, è bella. Raga, comunque non si può vedere la solitudine. Sì, adesso è... Qua c'è il camino, quindi un bel salone. Camino funzionante. Esatto. Salone. Qua c'è un cucinotto. Qua c'è un cucinotto. Allora, la luce. Eh? La luce fu. Qua è un cucinotto. Cucinotto. Ora da capire anche se rimarrà tutto così. Sì, sì. Scusate. Eh, scusate. Poi qui c'è un corridoio con una camera, con la finestra che darà poi sul panorama dietro. È chiusa. La troviamo? No, sì. Provo io. Oddio, lei va bene. Un casino? No, però bene. Vabbè. Vuole darti la mano, sì. Panorama. Giardino. No, no, no. La tagliamo. Oddio, ma è il casino, è il casino. È pieno. Porca miseria. Guarda, guarda, non ci sono accanto perché ci faccio il passo. No, 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 ce ne sono 3 o 4. Stai riprendendo? Sì, sì, sto riprendendo. Io ho comprato una casa in montagna e poi ho paura delle cinze. Sì, infatti. Chiudiamo la porta così non vanno in giro. Raga, spero di non avere la dosa sotto l'anso. No, non c'è, l'ho già controllato. Grazie. Il bagno con vasca, ovviamente qui andrà tutto, proprio anche le porte, le finestre, tutto, tutto. Poi qua c'è un'altra cameretta. Qua c'è un'altra cameretta. Qua c'è un'altra cameretta. Qua c'è qui, su, vuoi aprire tutto questo, Ciro. E poi qui c'è un'altra camera. Camera, oh. Questa è enorme. Un arredamento direi delizioso. No, di là il panorama, vai. Di là il panorama. Sì. Vai, apri tu per esempio. Apro io, ragazzi, apri io. In prima persona. Attenzione, Anta con cerniera rotta aprile solo per circa 15 cm, non di più. Lasciamo stare, se no qua c'è... Il panorama la lasciamo stare. Sì. Ragazzi, qua tutto da rifatto. Questa non... Spendiamo le luci e andiamo giù. E questo è il salone. Cioè, immaginatevi proprio un ambiente tutto. Super caloroso con il cammino. Con la vetrata gigante. Questa vetrata la faremo ancora più grande. Dove darà tutto sul terratto. Sì. Potreste bere le vostre cioccolate in tazza d'inverno. Oppure potreste fare i vostri aperitivi d'estate. Leggervi un bel libro con una sdraia d'ondo. Con la jappuzzi. La jappuzzi nel balcone. Oh, scendiamo. Però sempre guardate. Cioè... Pensate con la neve. Guarda, qua tutto. Beh, però non è male questo legno qui. Questo è tutto da rifare. Poi andiamo giù. Andiamo giù. Scale. Quindi scale qui. Rifaremo tutto. Questo è carino dai. Potremmo lasciarlo così. Questo è... Queste le rivestiremo tutte. Questo è un altro appartamentino. Una bella tavernetta. Una tavernetta. Quindi qui abbiamo un bel ingrestino. Un altro cucinotto lì. Non sono sta letto. Eh no, perché siamo qui. Ok. Ok? E poi abbiamo cameretta qui. Sì, sì. Molto per figurare. Io qua vorrei fare... Ci sono io. Io qua vorrei fare una spa. Una cameretta. Qua dentro. Fai vedere che lunga e stretta. Piccola spa qui. E già è basso. Saura. È basso. Adesso vedremo una sauna. Eh, assoluto. Magari apriamo questo qui. Facciamo aprire tutto. E poi dopo l'altro bagnetto. E un'altra camera qua da letto. Eh. Ok. Fai. Aspetta che spugniamo. Niente, apriamo qua. Qua ci siamo noi. Ok. Poi vi facciamo vedere il giardino. Quindi qua guardate un bellissimo porticato. Dove tipo si può pranzare d'estate, d'inverno. Non si fa niente. Ma pensatelo proprio tutto ristrutturato. No, però qua dove si può davvero pranzare. Qui ci faremo una bella stazionata. Così tutto in sicurezza. L'ombrellone lì. Via. Questa stazionata se ne sta per andare la toglieremo. E poi abbiamo tutto il giardino dietro. Uh, che è qui? No, ragazzi. Questo qui ci vorremmo fare. Se è possibile dobbiamo capire anche in base al sole. La piscina. La piscina, ragazzi. Guardate. In base al sole. Quindi praticamente lì sopra. Quindi faremo una scala in legno. Che va su. Che va su. Piscinetta. E poi qui, guardate che carino. Cioè praticamente questo archetto. Sì. Dove si può andare a fare una passeggiata. Quello è un sentiero, sì. Sentierino. Quindi fantastico. Ok. E quindi, niente. Ora, vogliamo solo partire. Facciamo il calcio. Ecco lì. Ed è proprio da questo sentiero che vi salutiamo. E vi lasciamo anche una bomba. Vi lanciamo una bomba. Una bomba. Abbiamo scelto il nome della casa. Abbiamo realizzato. Anche il logo. Il logo. Ancora prima di iniziare i lavori. Posta è la fortuna. Speriamo di sì. Anche perché ci vorrà tanto tempo. In essere positivi. Cioè non è una roba che si fa nel giro di pochi mesi. Speriamo dai un anno di riuscire a fare tutto. Comunque. Però vi terremo giornate su tutto. Faremo tantissimi video. Soffi così. Comunque abbiamo appunto scelto il nome. Ora vi do anche scritto qui. Vi scriviamo qui sotto, sopra. Non lo so adesso. Qui sotto. Scriviamo qui sotto il nome della pagina Instagram. Se volete andarla a seguire. Proprio della struttura. E così da lì vedete anche aggiornamenti e cose varie. Ovviamente vi aggiorneremo anche qui sul nostro canale. Però intanto andate a seguire la pagina Instagram. Mi raccomando. E commentate qua sotto se vi è piaciuta o no questa casa. E anche se avete delle idee. Quindi ora l'avete vista. Se avete delle idee. Partite con le idee. Partiamo tutti super carichi. E speriamo di avervi ospiti qua da noi. Tutti quanti. Tutta la famiglia. I sorrisini. Ciao raga. Al prossimo video. Ciao. Ciao.